Si affronta come sempre, comunque Juventus-Milan, anzi Mila-Juventus, giochiamo contro il campione in Italia e domani sarà una partita più difficile del solito perché comunque loro vengono da una sconfitta brutta in Champions a Londra e domani vorranno rifarsi, quindi sarà una bella partita, una serata di sport meravigliosa davanti a uno stadio pieno e quindi ci sono tutte le condizioni per poter far bene e quindi domani è una partita bella da giocare, importante però bisogna venire via con il risultato, però per farlo bisogna fare una prestazione di grande livello perché loro comunque hanno una scuola forte, hanno giocatori di grande tecnica, di grande velocità, hanno Leao che è un giocatore che può spostare l'equilibrio di una partita, giocano davanti a loro tifosi, San Siro quando è pieno e spinge bisogna essere molto bravi, quindi ci vorrà molta lucidità, molta personalità e quindi per noi sarà un buon test. Ma intanto test e personalità se riusciamo a fare risultato avremo superato il test, altrimenti magari anche se facciamo una buona prestazione e non facciamo il risultato magari il test non sarà superato, noi bisogna pensare domani per venire via a San Siro bisogna fare sicuramente una grande prestazione, questo è poco ma sicuro. Quando per evitare quell'istituzione a campo aperto bisogna essere bravi a non concedere ripartenze, a non concedere spazio a Leao, però poi il Milan è fatto anche di Giroud che è molto bravo, di De Cattelar, di Dias, sono giocatori molto tecnici, noi domani bisogna fare una bella partita sotto tutti i punti di vista, sotto la personalità, della tecnica, della forza mentale nello stare in campo, perché comunque le partite a Milano non finiscono mai. Sta facendo meglio perché sono sbagliato, 4 punti sopra di noi in classifica, per quanto riguarda Pioli posso fare solamente complimenti per il lavoro che ha fatto il Milan, che sta facendo, per il campionato vinto l'anno scorso, perché il Milan era il 2010 che ne vinceva lo Scudetto, quindi credo che i numeri stiano tutti alla sua parte. Alla Bonucci rientrerà, c'è da fare l'anamento di oggi, quindi vediamo come dovrebbe rientrare. Per quanto riguarda Milik, Milik sta meglio, sta molto meglio, c'è ancora 24 ore, dovrebbe essere a disposizione per poter giocare, però lo volerò tra oggi e domani mattina. Parlare di mercato non ha senso, poi il mercato come sempre ci pensa alla società, per quanto riguarda Ravio sta facendo bene in crescita come tutti, l'importante ora è stare bene, recuperare gli ultimi giocatori che si stanno avvicinando alla squadra. Grazie a tutti! Grazie a tutti.